Qualcuno sta calciando la palla. Nessuno sta calciando la palla. C'è qualcuno nell'aereo? No, l'aereo è vuoto. C'è qualcuno nell'aereo? Sì, il bambino è nell'aereo. Qualcuno sta calciando la palla. Sì, il ragazzo. Qualcuno sta calciando la palla. Sì, il ragazzo. Qualcuno sta calciando la palla. No, nessuno. Qualcuno sta calciando la palla. No, nessuno. Nessuno è nell'aereo. Nessuno è nell'aereo. C'è qualcuno nell'aereo. C'è qualcuno nell'aereo. C'è qualcuno nell'aereo. L'uomo in blu sta portando qualcosa in mano. L'uomo in blu non sta portando qualcosa in mano. L'uomo in blu non sta portando qualcosa in mano. Loro stanno indicando qualcosa. Loro stanno indicando qualcosa. Loro non stanno indicando niente. Loro non stanno indicando niente. Qualcuno sta cavalcando. Qualcuno sta cavalcando. NESSUNO STA CAVALCANDO NESSUNO STA CAVALCANDO NESSUNO STA CAVALCANDO QUALCOSA E SUL PIATTO Niente è sul piatto Niente è sul piatto Niente è sul piatto Qualcosa è sul tavolo Qualcosa è sul tavolo Niente è su nessuno dei tavoli Niente è su nessuno dei tavoli Qualcuno è coricato nella tenda Qualcuno è coricato nella tenda Qualcuno è coricato nella tenda NESSUNO è nella tenda NESSUNO è nella tenda NESSUNO è nella tenda